Certo ragazzi che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare, i navigli e la ringhera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta, ragazzi Milano mi acchiappa veramente, veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì. Perché ti ricorda la tua terra, Orribiland, ti ricordi quando stavi là, col tuo papà e la tua mamma, coi due mostroni, lo sai no? Lo so, lo so, non lo sapessi ma lo so.